Ragazzi, mettetevi comodi, vi racconto una storia ASMR. C'era una volta Chloe, una ragazza dai lunghi capelli neri. Era agosto e faceva molto molto caldo. Allora Chloe decise di mettersi la crema solare e di andare al mare. Non appena scese le scale di casa, si accorse di aver dimenticato gli occhiali da sole. Allora tornò su e prese gli occhiali. Arrivata in spiaggia, si posizionò con il telomare a terra, chiuse gli occhi e ascoltò il suono del mare. Distesa al sole per tanto tempo ad ascoltare il suono del mare, decise finalmente di farsi un tuffo e andare a sott'acqua. Sott'acqua si accorse che c'era un gruppo di pesciolini. Allora si avvicinò a loro e vide che fecero tante bollicine. Uscita all'acqua molto affamata, ma nella borsa aveva solo frutta, una banana. Decise di mangiarla. Terminato lo spuntino, decise di rilassarsi. Si mise sotto l'ombrellone, si sdraiò sul lettino e prese delle cuffiette per ascoltare ASMR. C'era una volta una bambina dai lunghi capelli biondi, di nome Iride. Lei amava uscire di notte per andare a vedere la luna a forma di cuore che splendeva nel cielo. Quella notte però si imbatté in un brutto temporale. Perse la via di casa. La strada era molto buia, allorché accese una torcia. Per fortuna incontrò un uomo dalla gravatta luccicante, che la riaccompagnò a casa.